C'è salto, code e rallentamenti lungo l'A4 a causa di un incidente tra Sanstino di Livenza e Porto Gruaro in direzione Trieste. Si tratta di un tamponamento che ha coinvolto sette veicoli, tra cui un autocarro, due le persone ferite non gravemente, pesanti le ripercussioni sul traffico con chilometri di coda.